bene buongiorno a tutte buongiorno a tutti cari ragazze e cari ragazzi questo capitolo di sociologia lo dedichiamo invece alla povertà sempre relativamente al capitolo 13 sulla stratificazione sociale la povertà come possiamo definire questa parola in sociologia povertà è la condizione in cui la scarsità di risorse impedisce di soddisfare i bisogni della vita bisogna dunque allora chiedersi quali siano i bisogni della vita che cosa si intenda anche per scarsità per scarsità di risorse i primi bisogni diciamo così anche base come definizione sono i bisogni fisiologici cioè quelli che devono essere soddisfatti per permettere all'uomo la sopravvivenza e il benessere fisico dunque cibo vestiti una casa un alloggio riscaldamento senza di questi si è davvero poveri e ci sono poi altri bisogni che vanno insomma appagati per sentirsi a proprio agio avere bisogno di stimoli intellettivi che ne so acquisire informazioni e conoscenze instaurare dei rapporti con gli altri essere amati rispettati stimati considerati valorizzati insomma riuscire anche nella vita a sfidare e crea sfidare diciamo così gli ostacoli e a crescere autorealizzarsi come persone lo abbiamo visto per esempio anche in psicologia questo è un collegamento che potete fare con la piramide gerarchica dei bisogni di maslow no dei cinque livelli in quei bisogni fisiologici bisogni di sicurezza di appartenenza di stima e di autorealizzazione non so cioè facciamo un esempio in Yemen dove la speranza di vita supera non supera diciamo i 60 anni scusate supera in 60 anni ha però altri difetti per esempio che il 40 per cento delle persone non possono permettersi di andare di andare a scuola dunque da una parte abbiamo un indice che ci dice che la vita è sicuramente migliorata in Yemen ma ancora esistono dei bisogni di alfabetizzazione in questo caso che non sono stati soddisfatti la povertà il concetto di povertà dunque dicevo ragazzi è molto difficile da definire perché è cambiato nel corso nel corso della della storia in medioevo per esempio il fatto che esistessero dei poveri era considerato normale si pensava dunque che si dovessero aiutare con opere di carità perché la dizione cristiana poi quella protestante questo lo ha sottolineato per esempio anche max beber diciamo così spingevano le persone ad aiutare il prossimo perché questo aiutava anche la persona stessa volontario stesso a migliorarsi a crescere spiritualmente la povertà non era lasciata all'iniziativa libera e spontanea delle singole persone ma era la società stessa che si faceva carico di tutti quelli che per loro sfortuna stavano peggio pensate ai vescovi pensate al ruolo delle diocesi alle congregazioni religiose agli orfanotrofi alle colonie per i librosi per coloro invece che non erano religiosi la carità era un obbligo morale volte anche giuridico in certi comuni per esempio la legge stabiliva che i beni di chi moriva senza eredi dovessero andare dovessero andare ai poveri e lo stesso valeva anche per i ricavati magari delle multe all'interno di un comune non c'erano nel medioevo delle discriminazioni nei confronti delle persone svantaggiate ma piuttosto c'era un certo rispetto una certa considerazione il concetto di povertà cambia nell'epoca moderna nel senso che il fenomeno della povertà si espande perché con l'industrializzazione grandi masse di popolazione abbandonano le campagne per spostarsi in città dove c'è sempre più gente che vive in periferia e preferire spesso degradate spesso dei tuguri condizioni igieniche sanitarie malsane e qui l'atteggiamento nei confronti dei poveri cambia cambia rispetto al medioevo i poveri cominciano a essere visti come minaccia per l'ordine pubblico e anche come potenziali criminali un pericolo come aveva assorbato per esempio anche il sociologo simmel da cui bisognava difendersi da un lato c'erano i poveri che venivano ignorati affinché non turbassero diciamo così la tranquillità degli altri cittadini e dall'altro venivano colpevolizzati se erano in quella condizione era perché era colpa loro perché non avevano saputo amministrare i loro beni o perché non avevano voglia di lavorare e poi l'età contemporanea per esempio verso la fine dell'ottocento iniziano le prime denunce della povertà ricordiamo per esempio l'imprenditore boot che insomma denuncia la situazione di povertà soprattutto per gli anziani o lo scrittore statunitese harrington che come dire rilevano la vera gravità del fenomeno senza colpevolizzare i poveri lo presentano con un problema che la società avrebbe dovuto analizzare capire e curare dunque il concetto di povertà è cambiato nel corso della storia il concetto di povertà riguarda i bisogni e la scarsità di risorse ma per definirlo dobbiamo capire quali sono i bisogni e quali sono le risorse vediamo diciamo così la povertà in termini sociali come si presenta in italia come si presenta in europa e come si presenta nel mondo secondo le indagini dell'istat in italia ci sono più di 8 milioni di persone circa il 13 per cento della popolazione che vivono in condizioni di povertà di miseria percentuali molto più alte al sud che al nord di questi 8 milioni quasi 2 milioni e 900 mila sono in condizioni di vera e propria indigenza cioè hanno difficoltà a procurarsi i beni necessari per condurre una standard di vita accettabile ci sono poi molte persone che invece sono a rischio di povertà cioè che hanno risorse sufficienti per andare avanti normalmente ma possono cadere comunque in una condizione di povertà se incontrano qualche difficoltà vedremo questo dopo parlando di povertà fluttuante cioè perdita del lavoro gravi di malattie spese impreviste il 55 60 per cento della popolazione è al riparo dalla povertà nel senso che può ragionevolmente pensare che nell'arco della propria vita la povertà sarà qualcosa che non lo riguarderà mentre il 40 45 per cento ci dice che anche se non c'è una povertà è spaventata dal fatto che nella propria vita possano facciarsi periodi transitori di povertà dunque il 13 per cento dell'intera popolazione 8 milioni di persone soprattutto al sud di queste 2 milioni e 900 vera e propria indigenza anche questo è confermato insomma dai dati statistici delle principali associazioni religiose come la caritas ad esempio il 50 60 per cento pensa che non la povertà non lo riguarderà mentre il 40 45 per cento invece pensa che possano sprofondare in una situazione di disagio e di povertà per quanto riguarda l'europa le statistiche dell'eurostat che invece l'indice diciamo statistico che calcola diciamo così le dinamiche sociali a livello europeo in europa che ha circa 700 milioni di abitanti sebbene ci siano delle differenze significative per esempio tra lussemburgo paesi scandinavi paesi bassi e altri paesi magari dell'est europa bongaria romania e ungheria cosa ci dicono questi dati che il 17 per cento della popolazione europea in condizioni indigenza il 6 per cento degli europei ha difficoltà addirittura a far fronte alle spese della luce e del gas il 7 per cento a quelle del dell'affitto per esempio della casa o anche nel pagamento dell'automobile per quanto riguarda invece le percentuali che abbiamo nel mondo scopriamo che circa il 75 per cento della ricchezza mondiale ragazzi appartiene al 20 per cento della popolazione mondiale e questo 20 per cento della popolazione mondiale vive principalmente in america settentrionale in europa in giappone in australia la gran parte della popolazione mondiale circa l'ottanta per cento si divide quindi vedete che molti di queste ricchezze si trovano soprattutto nei paesi diciamo così occidentali e non nei paesi magari dell'asia o dell'africa la gran parte della popolazione mondiale circa l'ottanta per cento si divide invece il 25 per cento delle risorse dell'umanità e dunque questa maggioranza povera ok che si trova soprattutto in asia in africa in america latina anche in russia si deve spartire solo il 25 per cento vediamo in un mondo dunque diseguale dove nascere in un paese o nell'altro significa con buona probabilità trovarsi in condizioni economiche e quindi sociali completamente diversi oggi sulla terra vivono circa 6 miliardi e 700 milioni di persone e quelle che vivono nei paesi più sfortunati stanno sempre peggio sono circa un miliardo ragazzi per cui la vera sfida oggi aiutare l'ultimo miliardo di popolazione a risollevarsi se vediamo questo per esempio nei giganti dell'asia sta accadendo negli ultimi negli ultimi 50 anni dopo aver visto la situazione della povertà in italia in europa e nel mondo vediamo invece come viene definita in sociologia la povertà possiamo dire che esistono tre diversi tipi di povertà la povertà assoluta che è una condizione di miseria che non consente di appagare insomma i bisogni universali cioè quei bisogni che ogni uomo ha indipendentemente dal tipo di società in cui vive e anche dalle aspirazioni che ha bisogni di mera sussistenza quindi si parla di povertà assoluta estrema si parla anche di povertà assoluta non estrema nel caso in cui i bisogni non siano di sussistenza o di sopravvivenza per esempio un individuo che non ha possibilità di istruirsi o di avere un lavoro non avrà poi anche la possibilità di sfamarsi di conseguenza dunque si parla di povertà assoluta estrema di povertà assoluta non estrema esiste però poi un altro concetto che è il concetto di povertà relativa che è una condizione in cui è persa che ha un tenore di vita più basso di quello che ragionalmente può avere ed è relativo al contesto sociale in cui è inserito per esempio è la condizione di coloro che magari non possono permettersi un telefono un computer che è fondamentale oggi nella società tecnologica quanto appunto alla scarsità di risorse sì certo si tiene conto delle risorse economiche del denaro che entra mensilmente in famiglia ma anche da altri fattori per esempio se si abita in una casa di proprietà o no se si hanno dei risparmi o no se sono in affitto o non sono in affitto dunque da questo punto di vista ci sono degli aspetti quanto riguarda la povertà relativa che devono essere considerati per esempio il concetto di vulnerabilità cioè tipica di quelle famiglie in cui ci sono malati cronici o portatori di gravi handicap o anziani bisognosi di cure e assistenza può incidere nella povertà relativa o l'esclusione sociale cioè l'essere isolati dalla vita diciamo così della comunità e avere scarso accesso ai benefici che una società organizzata può può offrire per esempio gli ospedali la copertabile l'energia elettrica il telefono quindi essere esclusi da tutti quei benefici quelle risorse che sono fondamentali pensiamo per esempio alle famiglie che vivono magari nelle favelas brasiliane o in questo momento in guerra a cherson entreranno sicuramente in uno stadio di povertà relativa si parla poi anche di povertà fluttuante cioè quel fenomeno invece legato alla precarizzazione del lavoro e alle frequenti rotture in ambito familiare sia il verificarsi di condizioni di disagio economico temporaneo più o meno prolungato che può essere dovuto all'insorgenza di fenomeni improvvisi che magari peggiorano con la qualità di vita degli individui non lo so la perdita dell'occupazione un divorzio un abbandono delle malattie degli incidenti insomma situazioni che possono portare a improvvisa povertà dunque la povertà fluttuante è una povertà di tipo transitoria la povertà relativa è una povertà che dipende dal contesto sociale di riferimento la povertà assoluta invece è quella che riguarda la povertà rispetto ai bisogni universali questi i tre tipi di povertà che vengono studiati in sociologia come come si misura dal punto di vista scientifico dal punto di vista statistico la povertà assoluta e la povertà relativa allora questo si calcola attraverso dei tassi quindi esiste il tasso di povertà assoluta e il tasso di povertà relativa il tasso di povertà assoluta si individua innanzitutto diciamo così un paniere cioè un insieme di beni di prima necessità pensiamo quando il vitto l'alloggio e il riscaldamento quindi si fa il calcolo di quelli che sono i beni di prima necessità si definisce qual è il reddito minimo che una persona deve avere per acquistare sono questo paniere e questo reddito minimo rappresenta la soglia di povertà assoluta che è stato diciamo indicato per un adulto per esempio scilla tra i 750 e i 446 euro mensili a seconda insomma dell'età e del ruolo del luogo di residenza oggi possiamo dire che con l'inflazione al 15 per cento anche diciamo uno stipendio un po alto per esempio una persona che guadagna già mille euro e ha dei figli può entrare in una condizione di povertà assoluta ma questo è un altro discorso insomma una volta indicato il paniere una volta indicato diciamo così il reddito minimo cioè la soglia di povertà assoluta si fa il calcolo del tasso di povertà assoluta andando a vedere qual è la percentuale di popolazione che ha un reddito inferiore inferiore a tale sogno dunque per calcolare il tasso di povertà assoluta prima si quantifica il paniere poi si quantifica il reddito minimo che può avere una persona e quindi campioni di popolazione con questo reddito minimo quanto in percentuale possono accedere al paniere questo è il tasso di povertà assoluta la povertà relativa invece è un altro modo di calcolarlo e corrisponde diciamo così alla metà del reddito medio delle persone che vivono in quel paese dunque diciamo così se il reddito medio di quel paese è di 1200 euro questo per il calcolo dovremmo prendere 600 euro ok e si va a vedere qual è la popolazione quale percentuale di popolazione è al di sotto di quella di quella soglia c'è un altro modo per calcolare la povertà relativa e consiste nell'analizzare la distribuzione dei redditi nella popolazione solitamente la popolazione viene divisa in quintili cioè sotto popolazioni cinque sotto popolazioni quindi 20 per cento 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 che vengono ordinati in base al reddito quindi dal quintile più ricco al quintile più povero se c'è perfetta uguaglianza tra il quintilo tra l'uguaglianza economica tra il quintile più povero significa che il quintile più povero il quintile si fa poi un confronto scusate tra il quintile più povero il quintile più ricco se la disuguaglianza è del 20 per cento ok del reddito totale con gli altri quintili allora diciamo che c'è una una giusta disuguaglianza mettiamola così ma se come dire se è sotto il 20 per cento ok quindi se il quintile più povero percepisse meno del 20 per cento del reddito totale allora ci sarebbe più disuguaglianza e povertà ma appunto la povertà relativa è relativa a quel contesto a quel paese in particolare dunque ripetendo la povertà relativa si calcola con il calcolo della soglia di povertà che corrisponde al reddito medio di quel paese diviso due chi è sotto a quel diviso due è in povertà relativa oppure dividendo la popolazione in quinti la disuguaglianza economica in termini globali questa è questa è una delle classiche formule che vengono utilizzate da associazioni mondiali anche l'ONU l'Oxfam per esempio per calcolare la disuguaglianza economica è il cosiddetto coefficiente di Gini allora si può fare dunque un'analisi più accurata della disuguaglianza economica costruendo la cosiddetta curva di Lorenz che mostra la distribuzione dei redditi in un certo in una certa popolazione il coefficiente di Gini traduce la disuguaglianza economica in una misura numerica che varia per esempio tra 0 e 1 0 indica la perfetta uguaglianza cioè c'è un perfetto uguaglianza tutti tutti hanno lo stesso reddito uno sta a significare la totale disuguaglianza cioè che tutto il reddito è accentrato nelle mani di una sola persona per esempio in america c'è come dire un coefficiente di Gini molto diseguale rispetto all'europa rispetto all'europa la distribuzione della ricchezza per esempio negli stati uniti america è più vicino all'uno rispetto a quella europea che è più vicino allo zero ok quindi il coefficiente di Gini traduce la disuguaglianza economica in una misura numerica attraverso diciamo così la misurazione in una curva che viene chiamata curva di Lorenz sulla distribuzione dei redditi per cui in america per esempio c'è una fortissima differenziazione tra i ricchi e i poveri rispetto ai ricchi e i poveri in Europa ci sono poi altri indici che lo sviluppo diciamo l'ONU ha calcolato le Nazioni Unite hanno utilizzato per misurare la povertà l'ISU che è l'indice di sviluppo umano e l'IPU che è l'indice di povertà umana l'ISU tiene conto di diversi aspetti come per esempio la durata della vita la salute l'accesso all'istruzione l'accesso ai servizi igienico sanitari la disponibilità economica e quest'indice parte dall'idea appunto che i bisogni umani non sono riducibili alla mera sopravvivenza ma è legato anche a qualcosa non per forza economico ma anche sociale per esempio l'ISU che anche che anche esso un coefficiente tra lo zero e l'uno ci dice che le persone che godono dei benefici presi in esame uno indica la piena realizzazione zero la peggiore condizione possibile quindi l'ISU l'indice di sviluppo umano tiene conto anche di tutte queste variabili le ripetiamo l'istruzione l'accesso ai servizi igienico sanitari la disponibilità economica l'IPU invece l'indice di povertà umana misura la bancanza di benefici e anche la disponibilità di benefici e va da un coefficiente che va dallo 0 al 100 0 assenza di povertà 100 totale di totale povertà quindi tiene conto l'IPU l'indice di povertà umana anche però non solo dei benefici ma anche dell'esclusione sociale per esempio pensiamo agli immigrati che tendono spesso nei paesi più occidentali a essere a essere marginenti dunque ragazzi cosa possiamo dire rispetto alla povertà e a come possiamo contrastare come contrastare la povertà avendo visto tutto questo ci sono diverse politiche chiaramente complesse che non avremo modo qui di approfondire in maniera precisa che c'è che cercano diciamo di porre rimedio alla alla povertà e sono orientate diciamo così in due sensi da una parte ridistribuire ridistribuire le ricchezze dunque lo stato ricorre a imposte progressive per chi ha disponibilità economica maggiore esentando dunque i poveri a trasferimenti assistenziali cioè a pagamenti in denaro in natura dunque ridistribuire le ricchezze imposte progressive chi guadagna tanto paga tanto chi guadagna poco paga poco ok e questo per esempio quando facciamo il calcolo del 730 ci viene in qualche modo riconosciuto poi troviamo la promozione dello sviluppo cioè favorire in sostanza lo sviluppo economico di un paese se un paese è maggiormente sviluppato ancor meglio riuscirà a far star bene la propria popolazione sviluppato nel senso di presenza di infrastrutture reti idriche trasporti tecnologie ora queste due strategie la redistribuzione della ricchezza e la promozione dello sviluppo sono importanti ma presentano degli effetti se redistribuire da una parte le ricchezze riduce la povertà è facile anche che redistribuirle troppo provochi magari un malcontento delle classi delle classi più agiate che potrebbero magari reagire con l'evasione fiscale o dall'altra parte i trasferimenti assistenziali se costituiscono un bisogno per i poveri rischiano però magari di disincentivare il lavoro vedete tutta la critica che in questo tempo viene fatto nel caso nel caso del reddito di cittadinanza no anche la strategia invece di promuovere lo sviluppo ai suoi difetti che sono molti paesi del terzo mondo che con l'arrivo magari del capitalismo rispetto a paesi avanzati non hanno promosso lo sviluppo e dunque se bisogna promuovere sviluppo bisogna promuoverlo in tutto il mondo non solo in alcuni non solo in alcuni paesi vi faccio un esempio in togo o in benini c'è una sola strada asfaltata tutto il resto non c'è eppure siamo nel 2000 nel 2022 eppure anche l'africa ha avuto parecchi soldi da spendere per questo insomma bisogna stare molto attenti quindi combinare le due strategie all'interno di programmi politici articolati complessi e il più possibile precisi quindi che non incentivino l'evasione fiscale e che non si concentrano in alcuni paesi piuttosto che in altri pensiamo per esempio anche non so nel caso della promuovere sviluppo a rio de genero ci sono la centro storico super sviluppato le periferie non hanno ancora l'elettricità dunque anche questo è da tenere conto un altro modo per contrastare la povertà è l'istruzione all'informazione e il promuovere le imprese le imprese sociali per quanto riguarda l'istruzione alla formazione beh già lo abbiamo detto un più alto livello di istruzione e maggiori opportunità di formazione ci permettono di accedere molto meglio a un primo impiego o di trovare diciamo così un altro lavoro se si è perso quello precedente insomma e quindi del resto quando uno stato investe in formazione sta combinando da una parte ridistribuzione delle ricchezze promozione dello sviluppo perché è un investimento quello dell'istruzione che viene fornito a persone bisognose siamo per esempio non lo so le agenzie di lavoro o di formazione professionale che permettono di far accedere senza costi corsi gratuiti per meccanici metalmeccanici saldatori idraulici dunque è molto importante anche il ruolo di queste agenzie hanno all'interno della società oppure promuovere le imprese sociali imprese che hanno innanzitutto come obiettivo un obiettivo sociale non di profitto quindi anziché l'arricchimento chi fa l'impresa ci si concentra su quelle che sono i bisogni sociali umani più importanti uno dei più importanti economisti cosiddetto banchiere dei poveri yunus ha realizzato per esempio in bangladesh il cosiddetto sistema del microcredito per cui sfruttando delle donazioni ha creato una banca che si chiama grani bank che presta delle piccole somme ai poveri e permette con queste piccole somme ai poveri di crearsi una piccola cooperativa un piccolo gruppo di agricoltori un piccolo gruppo di artigiani insomma senza degli interessi tipici senza gli interessi tipici delle banche quasi il cento per cento dei casi in cui il denaro viene ridato quindi ti do pochi soldi a pochissimo interesse ok quasi nullo si è visto nel corso degli anni che quasi il cento per cento delle persone restituiscono il denaro piuttosto che entrare in uno stato di credito e poi di ipoteca no come nel caso delle banche e il 60 per cento dei clienti con questo sistema di microcredito è riuscito a uscire dalla povertà dunque si possono realizzare delle piccole imprese sociali per esempio per vendere prodotti alimentari anche di alta qualità soprattutto questo nei paesi nei paesi più nei paesi più poveri o come dire vendendo a prezzi più bassi non so cibi essenziali il latte per esempio magari posti dove i bambini sono malnutriti ecco questo tipo di imprese sociali possono avere un impatto molto importante attraverso questo sistema di microcredito nei paesi nei paesi sotto sviluppati dunque abbiamo visto perché per contrastare la povertà l'importanza di redistribuire le ricchezze di promuovere lo sviluppo di promuovere l'istruzione e di promuovere le imprese le imprese sociali un altro concetto importante tornando in italia invece è il concetto di reddito di cittadinanza che una volta si chiamava reddito di inclusione oggi il reddito di cittadinanza è una prestazione mensile economica esentasse che viene data a coloro che hanno un reddito sotto la soglia di povertà quindi non riescono ad arrivare a 400 500 euro al mese quindi la soglia di povertà è calcolata in italia a 780 euro dunque se sei sotto i 780 euro puoi accedere al chiedere il reddito di cittadinanza questo è molto importante da una parte per esempio il reddito di cittadinanza ha aiutato durante la pandemia molte famiglie in stato di povertà poniamo il caso di un nucleo familiare formato da due persone con una pensione da 400 euro ciascuno il reddito di cittadinanza può aiutare tantissimo affinché vengano magari raggiunti 780 euro con 380 euro in più pensate due persone che guadagnano una pensione di 200 euro al mese 400 euro faccio la richiesta del reddito di cittadinanza per arrivare a 780 sappiamo benissimo che il reddito di cittadinanza ha anche dei difetti può essere modificato ma il principio il principio di questo tipo di politica sociale è importantissimo oggi per accedere al reddito di cittadinanza si deve avere 18 anni essere disoccupati avere un reddito lavorativo inferiore a 780 euro e percepire una pensione questo riguarda più di anziani inferiore alla soglia di povertà dunque per sintetizzare quello che abbiamo visto oggi sulla parte riguardante la povertà abbiamo visto che cos'è la povertà abbiamo visto che cosa sono i bisogni e le risorse abbiamo visto la storia della povertà dunque come è cambiato il concetto di povertà nel medioevo nell'età moderna nell'età contemporanea abbiamo visto la povertà in italia nel mondo in europa abbiamo visto come si definisce la povertà in termini sociologici povertà assoluta povertà relativa povertà fluttuante abbiamo visto come si misura la povertà quindi il tasso di povertà assoluta e il tasso di povertà relativa e poi abbiamo visto il come si misura la disuguaglianza economica in particolare il coefficiente di gini l'indice di sviluppo umano l'indice di povertà umana che sono i tre indici che vengono utilizzati per calcolare le disuguaglianze economiche infine abbiamo visto quali sono le azioni per contrastare la povertà e cioè redistribuire le ricchezze promuovere lo sviluppo promuovere l'istruzione e la formazione le imprese sociali e le politiche sociali come per esempio in italia il caso del reddito di cittadinanza a presto grazie a tutti